Gli studenti andavano avanti alle fabbriche a parlare con gli operai. Povero Mario, l'hanno licenziato, era il più bono di tutto il capannone. I fatti della bussola sono della notte di Capodanno tra il 68 e il 69. E si fanno le barricate. Era anarchico e questo ci basta. Abbiamo visto passare entusiasti un corteo al sole di migliaia e migliaia e migliaia di giovani che tutti cantavano. Mercoledì 3 giugno dalle ore 18 trasmetteremo la seconda parte dell'intervista a Pino Masi.